Con la frase discorso sapienziale generale, i maestri che si manifestano attraverso grandi medium intendono l'insieme delle verità che gli iniziati di tutti i tempi e di tutte le religioni hanno comunicato nel corso della storia. Il concetto è immortalato ad esempio nella massima non fare agli altri quello che non vuoi che gli altri facciano a te è una regola che contrariamente a quanto molti credono ha vasti precedenti. Eccone alcuni comprendendo tra essi il fondatore del cristianesimo. Buddismo, uno stato che non è gradevole o piacevole per me, non deve esserlo neppure per lui, è uno stato che non è gradevole o piacevole per me, come io posso pretenderlo per un altro. Samyutta Nicaia, quinto, 353, 353, 354, 2. Confucio, 551, 489 avanti Cristo. Quello che tu stessa non desideri non farlo neppure agli altri uomini. Dialoghi 15, 23 Gesù di Nazareth. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Matteo, 7, 12, Luca, 6, 31 Giainismo L'uomo dovrebbe comportarsi con indifferenza nei confronti di tutte le realtà mondane e trattare tutte le creature del mondo come egli stesso vorrebbe essere trattato. Sutra Kritanga, 1, 11, 33 Induismo Non ci si dovrebbe comportare con gli altri in un modo che sarebbe sgradevole a noi stessi. Questa è l'essenza della morale. Ma a Barata, 13, 114, 8 Islam Nessuno di voi è un credente fino a quando non desidera per suo fratello quello che desidera per se stesso 40 Hadite di An-Nawawi, 13 Rabbi Hillel, 60 avanti Cristo, 10 dopo Cristo Non fare agli altri quello che non vuoi che essi facciano a te Shabbat, 31 A Il concetto espresso in queste frasi, che è l'espressione della massima saggezza umana è parte integrante del discorso sapienziale generale che è esteso a ciò che hanno detto i grandi di tutte le epoche ed è posto sulla griglia dell'insegnamento dei maestri Grazie per aver guardato il discorso sapienziale